C'è una ragazza, secondo me, molto brava. Il suo nome è Marina Blu, debutta qui a Cellino San Marco per la prima volta in Italia. Marina Blu. C'è una ragazza, secondo me, molto brava. C'è una ragazza, secondo me. C'è una ragazza, secondo me, molto brava. C'è una ragazza, secondo me. 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 Grazie.